ciao a tutti ragazzi bentornati santo stefano buono ancora per voi dopo che ci siamo fatti gli auguri per natale siamo pronti per le 5g news quindi un video interessante dove parleremo del 5g ancora alcune novità cosa potrebbe comportare ulteriormente anche per i rischi per la suite se ne parla tanto ma soprattutto le innovazioni che porterà il 5g vi trovo sicuramente in forma avete stato ancora anche voi facendo cenoni regali eccetera ancora auguri come devo salutare marco squeglia che è stato l'utente più veloce dell'ultimo video ovviamente sul video di oggi verrà salutato il più veloce ancora commentare con un super saluto a voi che siete super tecnicamente natalizie fantastici come sempre allora partiamo subito il 5g news news perché in discrezioni sempre più forti arrivano che fanno vogliono far capire vogliono improntare che il 5g sarà proprio il all'inizio sarà il mercato del mobile che sostituirà la linea fissa un po' quello che dicevo io quindi sarà un po' il mercato domestico a privilegiare del 5g all'inizio piuttosto che quello mobile voi pensate privilegierà prima il mercato domestico addirittura rispetto a quello mobile voi pensate che addirittura sarà così e non è niente male ne dicevamo da tempo il 5g velocità di punta pazzesca in download in upload e potrebbe essere il diciamo la linea che affianca la linea fissa per poi andarla a sostituire in futuro comunque a viaggiare a parallelo soprattutto per tanto tempo insieme per poi magari anche sostituirla e questo è quello che già youtube e altri servizi come youtube tv gratis la tv che arriva poi anche su youtube come avevo detto servizi in streaming vogliono utilizzare proprio il 5g dando dei sfruttando dei pacchetti anche illimitati insomma ci sono tante cose in pentola che fanno capire che con quelle velocità si vuole prima entrare nel mercato domestico sostituendo cioè affiancando sostituendo già se si può la linea fissa per poi entrare ovviamente nel mercato mobile amplissimo e più ampliato che non si può con smartphone tablet eccetera 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 quindi sicuramente il 5g incomincia a prendere forma ma pensate è proprio un po' come come dicevo io prima casa poi il mobile poi insieme tutte e due e perché è così perché il 5g potrebbe essere veramente la rivoluzione che porterà la linea mobile ad essere poi la linea definitiva come nuovi modem router portatili nuovi modem di tutti i marchi tipi link e altri marchi conosciuti se ne ho fatto uno non è per fare pubblicità c'è netgear ce ne sono tanti di produttori che vogliono ovviamente entrare con i nuovi modem con inserimento sim ma modem router che possono essere utilizzati a casa con l'inserimento sim 5g i costi iniziali saranno elevati quindi si incomincerà a muovere un mercato dove i router modem saranno uguali a quelli che si usavano per la DSL e la fibra ottica ma fatti con la sim per funzionare come linea di casa con le sim già iniziavano col 4g e uscire queste per non parlare poi dei modem router portatili 5g che all'inizio costeranno sicuramente di più vi informerò marca, modello, allestimento e prezzi senza nessun tipo di problema un 5g che potrà far andare le auto da sole con i piloti automatici noi abbiamo già visto in qualche prototipo che c'è in giro un 5g che potrà collegare la farmacia al medicinale un 5g che darà un'interazione completa di tutte le applicazioni verso gli enti verso le persone quindi migliorerà tutti questi tipi di servizi molto più veloci soprattutto un 5g a velocità di picco in gigabit in download in upload che sono inarrivabili anche per le linee fisse quindi la rivoluzione diciamo sicuramente c'era dell'internet delle cose tutto questo sicuramente molto bello abbiamo detto sarà privilegiato pensate prima al mercato di casa l'home rispetto a quello mobile ma perché è normale questo perché sarà un affiancamento arriveranno i primi pacchetti illimitato casa mobile con il 5g ricordatevi queste cose che vi sto dicendo poi vedrete vedrete che ci saranno dei pacchetti così e tutto questo ovviamente al solito prezzo le solite critiche e ovviamente fa male e tanti mi dicono parla ci frigge il cervello tutto quanto allora ragazzi io ho tantissimi di voi che mi chiedete ma parla dei rischi io ho già fatto dei video sui rischi per la salute ma oggi accendi la macchina e c'è il monossido di carbonio rischio per la salute l'aria non è buonissima ovunque ci sono dei posti ancora dove buono magari nella campagna nei posti meno inquinati le onde elettromagnetiche le emanano i cellulari le emanava già al 4g le emanano al wifi saranno anche a una latenza bassa comunque fanno meno male ma comunque tutto fa male soprattutto le onde elettromagnetiche fanno male e chiaramente siamo già abbastanza bombardati sicuramente questo bombardamento del 5g non porterà un beneficio non farà diminuire sicuramente questi rischi però detto questo io cerco sempre un equilibrio fa male può essere sicuramente che faccia male ma non è che moriremo tutti dopo un anno che usiamo il 5g secondo me la verità sta nel mezzo ricercatori che dicono no il 5g fa male sicuramente ci porterà a friggerci a tutti altri di 9 assolutamente non fa nulla altri con no farà male sicuramente non porterà del bene porterà più inquinamento tecnologico ma non al punto come abbiamo fatto per il wifi lo supereremo insomma ci adatteremo anche a questo tipo di bombardamento perché è un bombardamento che comunque non uccide le persone insomma la verità sta nel mezzo ogni progresso che ci porta dei vantaggi ci porta anche degli svantaggi nel senso sicuramente il 5g porterà una rivoluzione futura di quello che è la tecnologia ma un po di bombardamento dell'elettromagnetica in più sicuramente ci sarà ci saranno più antenne installate ci saranno più onde e ovviamente queste noi le assorbiremo sicuramente sì però sicuramente non avranno questo effetto così allora è dannoso la fine del mondo dopo due anni che usiamo il 5g l'umanità non esiste più se vogliono farci fuori basta bombardarci con armi chimiche basta avvelenarci tutti quanti vedere se vogliamo parlare di complottismo forse non serve accendere le antenne del 5g per friggerci o magari anche sì ma lo potrebbero fare in tanti modi perché poi qua nascono tantissimi discorsi che non sono poi inerenti sono un po' off topic quello che è la linea del mio canale quindi io rimarrei più sicuramente non faranno benissimo queste onde elettromagnetiche in più ma ci adatteremo come per il wifi per il 4g resistendo sicuramente adattandoci e saranno sicuramente calibrate per non uccidere sicuramente l'umanità certo che il prezzo da pagare c'è nel senso se tu comunque vuoi progredire devi per forza anche inquinare in un certo senso dal punto di vista tecnologico in un'era dove si va verso il fotovoltaico le macchine a idrogeno le macchine elettriche quindi un mondo che potrebbe migliorare non usando più benzina non usando più diesel che tra qualche anno non funzioneranno più quindi si va verso l'ecologia non penso che questo inquinamento del 5g sia così pericoloso dal punto di sterminare l'umanità però non penso neanche che faccia bene io cerco la via di mezzo sarà sopportabile ecco sicuramente ne gioveremo poi magari se ne parlerà sempre meno quando il 5g comincerà a uscire come tutte le cose però ci sono sempre allarmismi sempre qualcuno che giustamente si preoccupa e altri che ci speculano per motivi personali di interesse quindi mettono allarmismi in giro per recuperare poi benefici economici il mondo è furbo bisogna essere un po sgamato bisogna avere un po di esperienze capire come funzionano le cose la mucca pazza ve la ricordate c'era l'immagine del solito povera bestia che poi era sempre quella poi è rientrato tutto insomma ci sono tantissime cose che fanno male lo sappiamo benissimo non è un mondo pulitissimo si sta cercando di essere più ecologici possibile andare verso il fotovoltaico rinnovabile il 5g sicuramente le onde non è che fanno bene voglio dire come non fa bene attualmente ma scusate abbiamo wifi 4g lte 3g abbiamo onde ovunque adesso arriva il 5g e ci preoccupiamo cioè voglio dire non è che sarà molto peggio oramai per convivere con la tecnologia queste onde girano e girano un po ovunque quindi sicuramente allarmismo giustificato nel senso da un certo punto di vista da un altro no ci saranno un inquinamento tecnologico superiore ma non penso che sarà da sterminio dell'umanità certo non farà benissimo ma non non sarà così dannoso da ucciderci tutto da ucciderci tutti ci minerà quella percentuale in più che però ci permette di non essere secondo me a rischio proprio per la salute all'ultimo stadio ecco quello voglio dire anche se poi non abbiamo una controprova di questo non ce l'abbiamo possiamo ascoltare chi dice che farà male chi dice che non farà male chi dice che ci friggerà tutti sicuramente sì però non abbiamo la contro poi magari non è così non fa niente poi magari fa male veramente tantissimo ma era una via di mezzo come dico io io penso che fino adesso siamo sopravvissuti a tutti le onde elettromagnetiche di tutti i telefonini che sono stati inventati 20 30 anni fa quelle prime chiamate al gsm al 3g al 2g al legge al 4g lt all wifi e penso che il 5g è un'evoluzione di questo oramai ci conviviamo e sicuramente non sarà un problema di sterminio dell'umanità sarà un problema di inquinamento tecnologico in più lo ribadisco sono molto prudente quindi anche io penso che non faccia benissimo ma non con questo alarmismo esagerato che c'è quindi una via di mezzo per quanto riguarda invece benefici dal punto di vista della vita sono tantissimi perché potremmo veramente interagire con mille cose in più avere una velocità elevatissima sostituire la linea fissa con quella mobile interagire con gli enti insomma dei servizi oramai diciamo un po quel mondo futuro che ci si prospettava un po di anni fa quando si cominciava a vedere quei video di come sarà un po il mondo futuro col 5g si incominceranno a connettere e a fare delle evoluzioni tecnologiche verso un passo veramente più molto più evoluto detto questo la domanda che mi fate tutti da tempo da tempo da tempo da tempo conviene passare subito a uno smartphone 5g no ve l'avevo già detto per il primo anno potete tranquillamente fare l'affare utilizzando un 4g che va benissimo velocissimo fino a 300 megabit telefoni che saranno ancora più scontati in 4g quindi affari sia nelle tariffe che nei telefoni il 5g può attendere magari nel primo anno possiamo aspettare nel secondo possiamo passare poi all'evoluzione veramente che ci può essere con il 5g detto questo saluti a tutti bacio super tecnicamente fantastici fantastici 4g 4g 5g ciao alle prossime da 4 capitec da paolo guale grazie come sempre auguri ancora attenzione in settimana arrivano le pagelle e per la prima volta non so se qualche canale l'ha mai fatta le pagelle degli operatori mobili ne vedremo delle belle ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti